Buongiorno a tutti, proseguono gli appuntamenti con le chiacchierate informali dell'Ufficio di Informazione Turistica del Comune di Grosseto. Nello scorso appuntamento abbiamo parlato con Chiara Valdambrini, direttrice del Museo Archeologico. Oggi ci spostiamo di pochi passi per incontrare Mauro Papa, direttore del Polo Culturale Le Clarisse. Buongiorno. Allora, la prima domanda, il fine di queste interviste è di riaprire un dialogo, di tenere attivo un dialogo dopo questi due mesi di chiusura fra le strutture, le principali strutture culturali, museali, le istituzioni della città e la cittadinanza. Quindi capire un po' quale è il rapporto dopo questi due mesi di forzato silenzio da parte del mondo interno, in realtà, con i propri visitatori, se ci sono delle novità per l'imminente ormai riapertura. Io sono il direttore del Polo Culturale Le Clarisse, che comprende al suo interno diverse istituzioni. La più importante è il Museo Luzzetti, che è stato inaugurato di recente a dicembre. Poi c'è Clarisse Arte, che è un'istituzione dedicata alla creatività contemporanea. La Polo Universitario dipende il Museo Lab, che noi abbiamo qui in Clarisse al secondo piano, e poi la collezione etnografica Roberto Ferretti. Noi inaugureremo con delle novità. Inaugureremo prima di tutto una mostra dedicata ad Aldi e Pascucci in Clarisse Arte. Quindi quando noi riapriremo la struttura, il 29 maggio, apriremo con l'inaugurazione di questa mostra, che era già pronta, e doveva essere inaugurata il 7 marzo, quindi il giorno prima della chiusura per le condizioni epidemiologiche. All'inizio di giugno invece torneremo ad aprire il Museo Luzzetti, con una, diciamo, mostra temporanea, che consiste in una audio vista guidata alla mostra stessa, che noi fingeremo attuata da un personaggio particolare. Avete lavorato tanto in questi due mesi, vi siete rapportati anche ad un pubblico in maniera virtuale. Il museo è una struttura fisica e deve essere frequentato fisicamente. Non perché sia un reazionario, ma perché ritengo che questa sia la sua specificità. Oltretutto in un periodo in cui siamo letteralmente invasi da milioni di offerte culturali che provengono da istituzioni museali. L'intenzione è quella di favorire tutte le modalità digitali o tecnologiche che possano riportare le persone dentro il museo fisicamente, non a frequentarlo virtualmente. E ci siamo mossi sia da un punto di vista di creazione di piccoli video, chiamati Two Art Minutes, con uno stravagante direttore in camicia e bretelle di ossa, che presentava le opere in modo molto sintetico. E questo l'abbiamo pensato per avvicinare il fruttore, nel senso far vedere che l'arte non è una cosa sempre e soltanto scientifica, filologica, pedante, ma è qualcosa che può essere vissuta con estrema leggerezza. E l'altro canale che abbiamo sfruttato è quello social con un gruppo Facebook che si chiama LSD, Liberi Scambi d'Arte, ma che fa riferimento anche all'acido risergico, per coinvolgere le persone e cercare da loro delle soluzioni, delle proposte che fossero quanto più fantasiose e eccenti che possibili. E che tipo di risposta pensi ci sia stata da parte del pubblico? Una buona risposta. Il problema in questi casi, appunto, mi piacciono queste interviste informali, il problema in questi casi è che riesci a costruire una comunità, ma alla fine questa comunità si chiude, perché fondamentalmente sono sempre le stesse persone che partecipano e quindi diventa anche difficile creare un collegamento osmotico con realtà più ampie. Però è già importante creare comunità. Io poi lo ribadisco, ritorno all'appello di prima, il museo è una struttura fisica, deve essere frequentato fisicamente e di questi tempi, come ormai è accertato, appurato anche dal mondo accademico scientifico, deve diventare per forza di cose un riferimento per la comunità. Lo era già prima, ma adesso in cui manca il turismo non di prossimità, quindi il turismo internazionale, manca questa capacità di attrazione, prima di tutto dobbiamo fare riferimento al nostro territorio e col nostro territorio creare condizioni poi per portare i turisti da fuori, perché se i grossetani, i maremmani vogliono bene al museo, creano anche le condizioni per renderlo più forte e più potente e affascinante, suggestivo per un turista che viene da fuori, quanto più lontano possibile. Noi ogni anno organizziamo, come i grossetani penso che conoscano, una manifestazione che si chiama Città Visibile. La manifestazione Città Visibile serve proprio per non educare o formare i cittadini, ma farli sentire parte di una comunità e chiedere ai cittadini loro progetti culturali. E quando è stimolo delle relazioni, riesci sempre a catturare la collaborazione di una persona che si sente protagonista e riesci a creare quella coesione necessaria, coesione sociale necessaria per sviluppare qualsiasi tipo di progetto culturale efficace. Due parole sulle novità di Città Visibile 2020? Stiamo cercando adesso di cambiare rotta, almeno per quanto riguarda la programmazione della Notte della Cultura. Non la faremo più nel centro storico, cioè nelle vie del centro storico, anche se il centro storico sarò coinvolto. Anzi, io mi auguro che il centro storico sia, come si può dire, invaso dai tavolini dei ristoratori che mi attivano le persone a mangiare. E noi sposteremo tutte le attività, se ci riusciamo, sulle mura, sul circuito delle mura. Abbiamo fatto di fatto un appello anche alle guide turistiche, a tutti coloro che riescono a creare iniziative culturali anche di semplice intrattenimento, per posizionarsi lungo il circuito delle mura. E loro saranno chiaramente fermi. E le persone, in tutta sicurezza, seguiranno tutte le iniziative e con garantite le norme che riguardano il distanziamento sociale. La immagino come performance collettiva, cioè come un unicum nella storia e che sarà ricordato per questo. E l'importante è che non si perda il senso della fruizione di queste mura e si concorra a viverle sempre meglio. Grazie a te per il tempo e spero che ci si possa rivedere al più presto, insomma. Ma dal vivo, non... Anch'io, anch'io, sì. Sì. Grazie a te per la visione.